Su tutti i mari del sud impera incontrastato l'Isola Verde, un Gold Lancaster scatenato e divertente in un film favoloso, una delle grandi opere dello schermo che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Faremo insieme l'ultima crociera del Corsaro dell'Isola Verde, che si svolse tanto tempo fa nel Mar dei Calati, ma attenti, siete a bordo di una nave pirata e circondati da pirati, il Corsaro dell'Isola Verde. Per forza non succede mai niente di eccitante su questa nave. Marilato! Siete prigionieri di Capitano Vallo e dei suoi scorbutici. Orte a gruda! Poblo! Poglio! Avvazzateli! Fuoco! Scorso! Scorso, presto! È vero, non è possibile. Ci amiamo e staremo insieme qui sulla mia nave. Io non posso star qui, non capisci? Sì, capisco. E adesso hai capito anche tu. Tu ti enti pronto che se qualcuno ci riconoscesse dovremmo prendere il libre con la forza. Quello è Capitano Vallo! Quello è Capitano Vallo! Capitano! Questo è un ammutinamento! Arrestati! Avanti! Avanti! Buona la carica! Non si arrenda! Resista fino alla morte! Difenda le donne e i bambini! Stanno arrivando i rinforzi! E non faccia uscire nessuno! Non vuole il cancello! Nessuno può uscire! Evviva tua valentà, il re! Il corsaro dell'isola verde! 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 Grazie a tutti.